Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership antinfortunistica. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un partner professionale e dalla vasta expertise su scala globale nel settore della fornitura di prodotti per la sicurezza sul lavoro, in particolare antinfortunistica. Per essere un punto di riferimento sul mercato in grado di puntare su innovazione, flessibilità e qualità. Il premio va a... Cometa Distribuzione Io mi collego subito con loro naturalmente e con me ci sono il dottor Giuseppe Iennaco, general manager, e il dottor Gianluca Iennaco, direttore commerciale. Benvenuti a entrambi. Buongiorno. Allora io partirei dal dottor Giuseppe Iennaco con un commento naturalmente su questo riconoscimento e su cosa significa per voi. Buongiorno di nuovo. Gianluca che rende tutto ciò possibile giorno dopo giorno. Grazie di nuovo. Grazie grazie che belle parole insomma mirate precise naturalmente che vanno a ringraziare tutto il team come giusto che sia. Allora Gianluca a questo punto anche rifacendoci se vuole a ciò che abbiamo ascoltato nella motivazione si parla di quello che voi fate. Siete un punto di riferimento per il vostro settore. Insomma le chiedo come continuerete. Quindi uno sguardo al futuro per così dire. Sì, sì sicuramente. Allora innanzitutto io vorrei esprimere anche io la mia felicità per la vittoria di questo premio. E vorrei a mia volta ringraziare il dottor Giuseppe perché ci sprona tutti i giorni a dare sempre il meglio di noi stessi. Beh come sa quest'anno è stato un anno molto particolare e faticoso in quanto noi abbiamo sempre lavorato anche durante il lockdown e non ci siamo mai fermati. Avendo noi molti clienti come ospedali e case di cure ai quali forniamo i dispositivi di protezione che a loro sono fondamentali per la protezione dal virus. La pandemia è stato un evento che ha sconvolto tutto il mondo lavorativo e sociale. Ma soprattutto nel mondo della sicurezza sul lavoro e dei dispositivi di protezione individuale è stato un vero e proprio tsunami. A causa della mancanza di materiale e soprattutto a causa di improvvisi cambi di normative che hanno reso il nostro lavoro veramente difficile. A questo proposito mi sento appunto di volermi riagganciare alle parole del nostro General Manager nel ringraziare anche io tutto il nostro staff e in particolar modo il nostro Production Manager che è sempre attivo e attento alla ricerca di nuovi prodotti e materiali affinché gli articoli di nostra produzione possano assicurare una protezione sempre maggiore e che tutti gli operatori che li utilizzano siano sempre più protetti e disposti a rischi sempre minori. E questa in realtà è la nostra vera mission e per renderla reale abbiamo creato una rete capillare su tutto il territorio nazionale non solo di venditori ma di tecnici che sono capaci di informare e consigliare i nostri clienti sulla scelta e sull'utilizzo del dispositivo di protezione al loro più idoneo e più idoneo alle loro necessità affinché non ci siano più infortuni sul luogo di lavoro. Questo premio per noi non rappresenta un punto di arrivo ma rappresenta un punto di partenza su tutta quella che è sempre stata la nostra linea guida e cioè innovarsi e migliorarsi e proprio perseguendo questo scopo a breve lanceremo una nuova linea di prodotti che si pongono l'obiettivo di fondere protezione e progresso distinguendosi per l'alta qualità dei materiali utilizzati e facendo in modo che chi utilizza i nostri prodotti sia sempre più sicuro. Beh insomma direi che la mission è ottima e poi voglio dire in questo momento ancora di più. Giuseppe quindi continuare su questa strada abbiamo sentito non è un punto di arrivo ma di partenza. Da qui si riparte diciamo così anzi si prosegue. Sì esatto questo è il nostro punto di partenza. Vogliamo migliorare i nostri prodotti e vogliamo essere più presenti capilarmente nelle aziende affinché tutti i dipendenti delle aziende siano protetti e lavoriamo con i nostri prodotti. Comunque speriamo sempre il meglio. Ci auguriamo che questa pandemia passi presto affinché possiamo migliorare il lavoro ancora più. Ancora di più certo sicurezza proprio in pole position quello è chiaro. La sicurezza è la sicurezza. Esatto esattamente complimenti ancora per questo premio naturalmente ringraziamo ancora il dottor Giuseppe Iennaco general manager di Cometa Distribuzione e il dottor Gianluca Iennaco direttore commerciale di Cometa Distribuzione. Complimenti a tutto il team. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buon lavoro. Grazie. 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 Buon lavoro.